Sette racconti, tutti diversi ma legati da un unico comune denominatore, la quotidianità, il giorno, semplice come si vive, fatto di aspetti positivi e negativi, è la vita. E Alberto Bonfigli ha saputo unire i temi della felicità e del dolore in un unico libro, dal titolo All'ombra dell'ultimo sole. Sono sette racconti di fantasia, è uno spaccato sociale della vita con me, così, nuda e cruda. L'esigenza nasce dal fatto di mettere all'attenzione dei lettori la società in cui viviamo. Durante la serata, affrontati ed approfonditi i temi del volume, con la sociologa Silvia Paternosto, che ha incalzato Bonfigli con domande di sfondo sociologico. Problematiche legate alla molattia, alla sofferenza e anche temi di giustizia sociale, ricerca della legalità, una prospettiva socioanalitica molto forte. Che in qualità di associazione nazionale e sociale vorremmo proprio approfondire, quindi unificare lo strumento letterario con capacità socioanalitica, proprio con l'indagine sociale, più metodologica e tecnica, ovviamente. Grazie. Grazie.